Questo non è rigore Allora, per essere chiari Lui che è, che Eto, entra in area C'è questo contatto, vediamo Lui che entra col difensore del Brescia Il difensore non fa così Fa così e si gira Te lo faccio io Allora il difensore del Brescia Fa così, si gira In questo modo E lui prende il balone Esatto, esatto Allora datevi un po' in questo replay